Qualche stupido dice, ma Luigi Abate, consigliere comunale, cosa fa? Parla sempre di buche, strade e marciapiedi? Io parlo di tutto, di ambiente, di occupazione, di sviluppo, ma anche e soprattutto di vivibilità urbana perché il cittadino paga le tasse e vuole ottenere servizi. A Taranto ci sono condizioni da terzo mondo e le nefandezze dell'amministrazione Melucci procurano danni enormi al cittadino. Mi trovo in via Giovann, giovine, all'altezza del civico 68, quindi 68 ed intorno. Una persona mi ha chiamato e mi ha raccontato la triste storia di sua madre, la quale uscendo da questo portone è caduta, perché il marciapiede non può definirsi tale, ma è un percorso di guerra tra mattoni saltati, rappezzi, buche e quant'altro. Guardate qui, potremmo arrivare chissà dove, in lungo e in largo, arrivare fino in fondo lì e arrivare poi fino a Via Dante. Questa signora, questa persona anziana, è caduta su uno di questi mattoni completamente dissestati e ha riportato dei gravi danni. La signora, c'è stato l'intervento del pronto soccorso, è arrivata l'ambulanza, è stata ricoverata, ha riportato dei danni delle fratture agli omeri, fratture scomposte che hanno comportato, come detto, un intervento chirurgico e che comporteranno ovviamente mesi e mesi di riabilitazione. Considerando che è una persona anziana, comprendete i rischi e comprendete il danno enorme che l'incapacità dell'amministrazione Melucci ha prodotto. In che condizioni era? Era proprio vietosa, braccio spezzato, tutto pieno di sangue, gli occhiali, proprio gridava perché si è fatta molto male. Io abito qua e ci siamo radunate persone e poi se l'hanno portato l'autovulare, però si è fatta proprio male. Due fratture scomposte dell'omero, le braccia. L'ho visto proprio il braccio perché lei gridava, sì sì sì. Mi sono trovata quella sera quando è caduta la signora, proprio una brutta scena, perché dice che non ha visto il buco. Ma si cade sempre, qualchiunque può cadere. Sì, no no, mi sono trovata, io ed è vero, è vero. L'abbiamo aiutata, l'abbiamo dato all'acqua, ma però la cristiana gridava, mi è dispiaciuto, però ho pensato che era una cosa grave, però niente, salve. Caro assessore Ciracci, assessore ai lavori pubblici, ma ti rendi conto che voi dite di avere una priorità di interventi, ma scusate, questa non è una priorità? E ora che la signora, perché la persona, il figliolo mi ha contattato e ho detto fai bene a chiedere i danni al comune e saranno bei soldini e soldoni che l'amministrazione comunale dovrà pagare e si creerà il solito debito fuori bilancio che il Consiglio comunale poi dovrà approvare. E questo perché? Perché chiaramente l'inefficienza dell'amministrazione comunale provoca questi danni. Certamente riparare una strada, rifare una strada avrebbe costi minori di tutti i danni ingenti che il comune si troverà a dover pagare a coloro i quali, proprio per l'inadeguatezza e l'inefficienza del comune, proprio questa ineguatezza ha comportato dei danni. Quindi il cittadino cade, si rompe un omero, si rompe una gamba e chiede i danni. Ma non uno solo, tantissimi solo. Ma io penso anche all'aspetto umano, una persona anziana, una mamma di famiglia, una persona che dovrebbe vivere serena, che paga pesantemente, sonoramente le tasse, per avere che cosa? Per avere le trappole di caduta, le trappole di frattura, le trappole di morte? Per avere che cosa? Per avere il nulla? Per avere il nulla? Questa è un'amministrazione che deve sparire da Taranto, perché ogni giorno in più che rimane la sua incapacità, la sua inefficienza procura danni. Perché con una nuova amministrazione, con un nuovo sindaco capace, non i buoni a nulla che abbiamo avuto finora? Bene, questa strada si rifà subito, si mette all'apice, al primo posto, tra i primi posti degli interventi, perché questo è un intervento urgente, urgente. Questa è la realtà. E sarò ben lieto che questo video, questo filmato, venga incluso alla denuncia che la persona, la signora danneggiata, presenterà in procura per il risarcimento del danno, perché la situazione è palese, evidente, è solare, non si può dire altro. La persona è caduta su questo marciapiede, è intervenuta e quindi l'ha trovata lì, stecchita a terra il 118, che il Comune paghi. Il peccato, però, la sofferenza è che poi per le incapacità e le nefandezze dell'amministrazione Melucci paghiamo noi cittadini, perché quando paga il Comune non è che paga il Comune in sé, si paga con i soldi delle casse comunali e i soldi delle casse comunali sono i nostri soldi, quelli che noi versiamo attraverso i vari tributi locali. Ma è giusto che la signora venga risarcita. Una vergogna targata Rinaldo Melucci, targata Mimmo Ciraci, targata Amministrazione Melucci in toto.